La buona qualità del foraggio è in pratica quando tu apri il ballone di fieno e senti il profumo del sole di sei mesi prima. La nostra azienda è composta a livello familiare da tre persone, mio papà Michele, mio fratello Federico e io che sono Andrea. Noi siamo in questo territorio da quasi quattro generazioni. La prima azienda è stata fatta da mio nonno nel lontano 1922. Il parmigiano reggiano non è un prodotto che si può industrializzare, è un prodotto solamente artigianale, fatto dalle mani delle persone. È una filiera di un gruppo di persone che lavorano tutte nella stessa direzione. Non si fabbrica, si fa. Produciamo tutto il foraggio noi, alimentiamo le bestie noi, trasformiamo il latte in parmigiano noi e lo stagioniamo e siamo pronti per venderlo. La passione e la conoscenza delle tradizioni vecchie che ci hanno trasmesso i nostri nonni, li abbiamo dovuto amalgamare con la conoscenza dei nuovi sistemi di alimentazione, i nuovi sistemi di fare i fieni, i nuovi sistemi di fare stoccaggio. Clas ha prodotto macchine che ci danno tanta fidabilità, macchine che sono veramente molto adatte a quelle lavorazioni specifiche che servono per fare i prodotti di foraggio per il parmigiano reggiano. L'importante è che quando tu apri il ballone sei mesi dopo, addirittura l'anno dopo, esca il profumo della terra e del sole con cui è stato secco. Quando il consumatore apre il pezzo di formaggio, sente una parte dei profumi che sono nella terra, che sono del latte e delle bovine. Finaggione di qualità vuol dire la ricerca della perfezione, che non può fare altro che sempre migliorare. Devi sempre e solo migliorare. E ci vuole l'innovazione e la tecnologia per mantenere la tradizione.